La nuova questione giuridica dell'oreggio La nuova questione giuridica dell'oreggio La Commissione europea adesso ha agito di fronte a tali preoccupazioni e ha sviluppato la strategia europea del plastico che ha l'obiettivo di ridurre e limitare i rifiuti di plastica. Questa strategia contiene all'incirca 40 misure che sono proposte legislative o anche campagne di sensibilizzazione. Ci può dare un esempio concreto di una tale misura? Allora, il 60% dei rifiuti di plastica è costituito da rifiuti di imballaggio. Pertanto la nostra strategia si focalizza soprattutto su questo tipo di rifiuti. E a tal proposito occorre far cenno a una direttiva che è stata recentemente adottata dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Si tratta della direttiva sulle articoli di plastica monouso che hanno l'obiettivo di limitare i rifiuti di plastica in mare. Ad esempio, questa direttiva contiene il divieto di alcuni prodotti di plastica per i quali esistono alternative sul mercato. Vuol dire piatti di plastica, cannucce di plastica, contenitori di plastica. Un'altra norma all'interno di questa direttiva riguarda le bottiglie di plastica e cioè l'obiettivo di separare il 90% delle bottiglie di plastica entro il 2029 e di produrle da plastica riciclata. E quando è applicabile questa direttiva all'interno dell'oreggio e cioè in Italia e in Austria? La direttiva sulle articoli di plastica monouso, per l'appunto, è una direttiva che deve essere attuata da parte degli Stati membri, cioè dall'Italia e dall'Austria. In concreto, questa direttiva diventa applicabile a partire dal 1 gennaio 2021. E vorrei anche sottolineare che per quanto riguarda specificamente l'oreggio, le regioni sono state sempre un pilasto per quanto riguarda l'implementazione delle iniziative ambientali e si spera che in futuro lo siano ancora di più. Ad esempio, noi saremo ampiamente presenti alla settimana delle regioni e delle città e speriamo, per l'appunto, di sensibilizzare ancora di più queste nostre iniziative. A partire dal 2021 sono vietati i prodotti di plastica monouso? Sono in previsione altre misure o iniziative a livello europeo? È prevista ancora una serie di iniziative e di misure. Siamo solo all'inizio di un lungo percorso. A questo proposito vorrei far cenno alla tanto discussa problematica delle microplastiche che a livello europeo cerchiamo di regolare sotto il più vasto regolamento sui chimici che si chiama REACH e di ridurre le microplastiche in determinati prodotti. Poi un'altra iniziativa molto interessante è un'iniziativa creata recentemente fra l'industria e la Commissione europea. Questa iniziativa è un'alleanza che ha come obiettivo il ripristino della plastica riciclata sul mercato. L'industria ha assunto numerosi dipenni nei confronti della Commissione europea di raddoppiare il ripristino sul mercato della plastica riciclata entro il 2025. Abbiamo veramente ricevuto numerosi impegni e siamo pertanto fiduciosi di raggiungere l'obiettivo. Grazie, dottoressa Schuster, per queste informazioni importanti. Grazie a lei. Grazie anche a voi, cari spettatrici e spettatori. Ognuno di noi è chiamato a dare il suo contributo per affrontare la grande problematica dei rifiuti di plastica. Con questo appello vi saluto e vi do appuntamento alla prossima questione giuridica del Orreggio.